Oggi vi racconteremo una storia. La storia di Nasser, egiziano, conosciuto anche con il nome di Mimmo nel nostro paese, che ha una storia incredibile, fatta davvero di tanti passaggi difficoltosi, dolorosi, di speranza, ma che davvero potrebbe essere una storia di grandi insegnamenti per noi, ma anche per i tanti connazionali, tante persone che come Nasser lasciano il proprio paese, in questo caso l'Egitto, per venire nel nostro. Una storia raccontata in questo libro, una storia raccolta dal giornalista Luciano Zanardini. Il libro è edito dalle Paoline e si intitola Nasser da clandestino a cittadino. Una storia vera, quella che è riportata in questo libro. Diamo il benvenuto al suo autore, Luciano Zanardini, in collegamento Skype con noi. Salve Luciano, benvenuto. Grazie, grazie per l'opportunità. Allora, una storia quella di Nasser incredibile. Prima di andare proprio al cuore di questa vicenda, raccontiamo un po' della giovinezza di Nasser, ragazzo egiziano, nato in una famiglia non ricca, ma conosciuta, in quanto suo zio era un imam, diplomato che ha sempre avuto la speranza di fare grandi cose. E allora, com'è stata la giovinezza di Nasser? Raccontiamo anche il passaggio in cui fa un concorso per diventare poliziotto. Sì, quella di Nasser è una storia di tanti inizi, è una storia che ha come principale sfondo l'Egitto, un Egitto segnato dalla corruzione e dalla povertà. La sua famiglia, come dicevi bene tu, non era una famiglia ricca, neanche troppo povera, ma non poteva garantire un futuro a suo figlio, in questo caso a Nasser. Nasser decide anche di percorrere la strada dell'iscrizione all'Accademia della Polizia, ma superate tutte le prove trova un ostacolo insormontabile, questo ostacolo è chiamato anche con il nome di raccomandazione. Nasser non era comandato e quindi finisce fuori, finisce il primo grande sogno della sua vita, quello di fare il poliziotto per fare qualcosa per gli altri. E così incomincia a ragionare su che cosa fare. La soluzione più semplice è quella di emigrare, più semplice ma anche la più dolorosa, perché comporta un distacco dalla famiglia e soprattutto una frattura anche con i genitori, che non vogliono inizialmente che Nasser parta per l'Italia. Nasser nella sua vita fa due grandi viaggi, il primo nella capitale egiziana al Cairo, il secondo in Italia. Allora la prima esperienza appunto quella di lasciare il paese in cui viveva per andare nella capitale non è stata proprio molto positiva, a parte poi una piccola parentesi in un'azienda di farmaceutica, in cui appunto ha un buon lavoro, una buona opportunità. Quindi raccontaci questo passaggio. Quando Nasser lascia il suo paese per andare al Cairo, sempre con la voglia di fare qualcosa di buono, qualcosa di più grande per se stesso e penso anche per la sua famiglia. È il passaggio di un ragazzo che esce da un villaggio per la prima volta e approda nella capitale, nella grande capitale egiziana con tutto il suo portato di storia. In questa capitale egiziana si ritrova a contatto con un mondo nuovo, vengono meno le barriere familiari, le barriere parentali, diventa una sorta anche di apprendistato per quello che poi dovrà affrontare anche in Italia. Qui trova un lavoro, dopo un molto peregrinare trova un lavoro e questo lavoro è anche soddisfacente perché la voglia di fare l'entraprendenza di Nasser segnano proprio la differenza di quest'uomo che si pone degli obiettivi e cerca soprattutto di raggiungerli. Il Cairo però è solo una tappa intermedia perché Nasser sceglie il Cairo per compiacere i genitori che non volevano uno stacco molto più forte. Però il Cairo non gli basta, il suo sogno è l'Italia e quindi nel suo secondo viaggio cerca di capire come arrivare in Italia. Infatti lui ha la voglia di lasciare il suo paese per venire nel nostro, per venire in Italia. Infatti lui racconta anche di questa frase che gli è stata rivolta dal titolare per il quale lavorava in questa azienda farmaceutica, alla sua affermazione voglia andare in Italia, il suo datore di lavoro gli ha risposto buona fortuna allora, hai le capacità per trovare la tua strada anche in Europa e poi queste capacità scopriremo che Nasser le ha davvero anche perché adesso è pienamente integrato nel nostro paese. Domanda intermedia, Luciano, ho dimenticato di fartela inizialmente. Come sei venuto a conoscenza della storia di Nasser? L'hai conosciuta, non so, attraverso un familiare, attraverso un amico, l'hai conosciuto personalmente? Ecco, come le vostre strade a un certo punto si sono incrociate? Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, nella nostra vita facciamo una serie di incontri, quello con Nasser è stato un incontro importante, un incontro che mi ha colpito per la capacità che aveva Nasser di dedicarsi al suo lavoro, alla sua attività lavorativa. In particolare racconto un aneddoto, Nasser quando poi arriverà in Italia, quando si integrerà e quando sarà appunto già sulla via anche di una discreta carriera, incontra un ristoratore, un ristoratore anziano, bresciano, perché la storia è ambientata a Brescia, questo ristoratore anziano è ammalato e quindi Nasser oltre a fare il dipendente fa anche il figlio, si preoccupa del ristorante ma si preoccupa anche dell'uomo, del ristoratore anziano che si chiama Piero. E quindi da questa storia che mi aveva colpito molto per questa capacità di dedicarsi agli altri, erano nate alcune domande, a queste domande hanno fatto seguito lunghe chiacchierate, alle lunghe chiacchierate ha fatto seguito il libro e quindi le pagine di questa storia che si adatta a diversi pubblici, può essere letta sia dai ragazzi che dagli adulti. Sì è vero, è un libro che ti cattura molto, si lascia leggere con estrema facilità. Quindi rifacciamo un passo indietro. Nasser decide appunto di partire per l'Italia anche se non sarà un viaggio facile in quanto comunque ci vuole una cifra considerevole, circa 15 milioni di vecchie lire se non sbaglio. Lui vuole venire nel nostro paese per rivoluzionare la sua vita e a questo punto è il padre, sono i genitori stessi che lo aiutano in questa rivoluzione, chiamiamola così. Sì come succede spesso agli stranieri che cercano e tentano l'avventura verso l'Italia, il gruppo familiare si fa in quattro per permettere questo e anche la famiglia di Nasser vende il terreno di proprietà, chiede prestiti ai parenti, ai familiari, ipoteca tutto quello che può essere ipotecato per permettere a un figlio di provare questa nuova esperienza. Un po' mal in cuore come vi dicevo prima perché c'è sicuramente il distacco, un po' mal in cuore anche perché Nasser è atteso da un viaggio, un viaggio che noi chiamiamo della speranza e che come abbiamo sentito anche in questi ultimi mesi molto spesso diventa anche un viaggio di morte. Nasser riesce ad arrivare in Italia, riesce a sbarcare in Italia dopo una breve sosta in Albania. Quello che mi è venuto da pensare, leggendo proprio quel passaggio in cui si racconta del suo viaggio, della sua traversata, è che è un viaggio molto simile a quello di tanti altri suoi connazionali, tanti altri migranti che lasciano il loro paese in cerca di fortuna per venire nel nostro, anche con la paura, con il terrore di non farcela a sbarcare nei nostri territori. Questo purtroppo è un destino comune a tanti immigrati. Immagino che anche per te scrivere quel passaggio abbia significato riportare alla mente tanti episodi, purtroppo di gente che non ce l'ha fatta a venire nel nostro paese. Sì, nel racconto di Nasser poteva esserci anche molto di più, alcuni passaggi li abbiamo volutamente tolti perché erano ancora magari più crudi rispetto alla realtà che ha vissuto. Siamo nel 1998, nel dicembre del 1998, quindi è un periodo storico un po' diverso. Nasser arriva attraverso un gommone rispetto ai barconi che contengono, che ospitano più persone di questi ultimi mesi. Però il cliché è lo stesso, il cliché è quello degli scafisti che trattano queste persone come merci, come animali e che sono disposti a tutti. Molti compagni di Nasser finiscono in mare ma il gommone non rallenta certo la corsa e quando arriva vicino alla riva scarica le sue merci, scarica queste persone. Perché? Perché ha paura di essere preso dalla guardia questiera. È un primo approdo in Italia per Nasser che significa morte, perché è la morte dei compagni che con lui stanno viaggiando. E quindi l'Italia che lui aveva sognato inizia con una delusione molto forte perché porta con sé la morte di altre persone. Mi viene da pensare ad una lettera scritta da una bambina di 11 anni, una lettera comparsa pubblicata sui giornali qualche tempo fa a proposito appunto delle traversate. Questa bambina invia questa lettera ai suoi fratelli, alle sue sorelle, ai suoi connazionali scrivendo loro non partite perché purtroppo potrebbe essere un viaggio che poi non vi riporterà indietro e durante il quale potrete trovare la morte. Luciano, secondo te perché Nasser si è innamorato del nostro paese? Che cosa l'ho appassionato sempre tanto della nostra cultura, il nostro clima, la gente che vi abita? Perché questo grande amore per l'Italia? La libertà, la libertà è sicuramente il primo segnale che ha fatto capire Nasser di essere in un altro paese rispetto al suo Egitto e poi può sembrare paradossale visto le polemiche anche italiane ma anche la corruzione, il fatto che in Egitto è un paese segnato da una grande corruzione e invece Nasser in Italia ha trovato un paese che l'ha premiato anche per il merito e questo effettivamente può sembrare paradossale, riduce un po' anche i nostri criteri valutativi sul nostro paese. Come sono state le sue prime esperienze lavorative? Subito si è dato da fare, si è rimboccato le maniche e ha subito deciso di voler lavorare, quindi non è stato un lavativo. Quindi raccontaci quali sono state le sue prime esperienze nel mondo lavorativo nel nostro paese. Sì, la prima esperienza è curiosa perché è un'esperienza da clandestino, un'esperienza sporadica perché è legata a un cenone all'ultimo dell'anno e quindi al capodanno dove Nasser deve semplicemente, non sa una parola di italiano, deve semplicemente accogliere i clienti, prendere i cappotti, gli abiti e sistemarli. Però è una serata che si conclude con molte mance, molte mance che i clienti generosi gli donano e questo gli fa credere che l'Italia sia qualcosa di facile. L'Eldorado. Sì, di fatti l'Eldorado. Basta una settimana per capire che lui, in quanto clandestino, è una persona che non esiste, quindi è una persona che non può girare normalmente in una strada, è una persona che essendo in clandestinità non può neanche cercare lavoro. Se vi ricordate bene siamo appunto alla fine degli anni 90, il clandestino era visto anche come un soggetto pericoloso. Oggi l'idea della clandestinità è anche un po' cambiata perché è cambiato anche il fenomeno migratorio e si è modificato nel tempo. Quindi Nasser vive come una non persona e lui questo lo racconta nel libro. Quindi la difficoltà da una parte di dover trovare un lavoro e di non pesare sui coinquilini che lo ospitano in un appartamento e dall'altra quella di non farsi prendere perché farsi prendere equivale anche a interrompere il suo sogno. Interrompere il suo sogno significa anche non restituire ai genitori, ai familiari quanto è stato prestato e soprattutto significa anche un po' mettere una macchia nella propria vita perché si è partiti per fare qualcosa ma il sogno se si interrompe diventa quasi una sorta di disonore. Esatto. Potremmo dire che l'avventura italiana di Nasser, che poi sarà chiamato e conosciuto come Mimmo nel nostro paese, è costellata da diversi incontri di persone che hanno incrociato la sua vita, ad esempio come Giacomo, egiziano come lui sposato però con una italiana, quindi integrato perfettamente nel nostro tessuto sociale. Che cosa ha significato per lui l'incontro con Giacomo? Sì, ha significato la possibilità di farcela. Giacomo è un po' il maestro di Nasser, è il maestro di Nasser che all'inizio non concede molto spazio a Nasser, ci sono alcuni episodi anche simpatici e divertenti dove Nasser cerca di guadagnare un po' più di spazio nella gestione del bar e ristorante perché Nasser vuole imparare a fare tutto e piano piano ci riesce per la sua insistenza, qualcuno potrebbe definire anche testardaggine e capacità di andare oltre la fatica. Ma Giacomo è anche la persona che nel momento in cui Nasser gli comunica di avere un'altra possibilità è la persona che lo incoraggia, è la persona che dice sì sei pronto per farlo, è un po' come era già successo al Cairo, quindi Nasser ha trovato delle persone che gli hanno dato fiducia e che l'hanno spronato ad andare avanti. Una persona molto caparbia che poi imparerà a fare la pizza, fare i caffè, insomma davvero a darsi da fare, fino poi a diventare lui stesso ristoratore ma ci arriveremo anche a questo passaggio. Poi l'incontro per eccellenza, quello con Pietro, ne accennavi anche tu all'inizio della nostra intervista, questo ristoratore di Borgo Satollo. L'incontro con Pietro potremmo dire è stato un incontro di svolta nella sua esistenza. Sì, è l'incontro determinante. Piero è questo antico ristoratore, antico nel senso che ristorante e pizzeria c'erano da molti anni, un ristorante e pizzeria che dopo un cambio di gestione aveva avuto qualche difficoltà, quindi anche qualche debito. Nasser incomincia a collaborare con Piero, ma nello stesso tempo collabora, come vi dicevo prima, anche con Giacomo, quindi faceva due lavori contemporaneamente. E poi c'era una terza attività, sempre legata a un ristorante e pizzeria. Diciamo che non si è fatto mancare nulla. In questo percorso con Piero c'è però una caratteristica fondamentale di Nasser, è la capacità di adattarsi. Presso il ristorante e pizzeria di Piero Nasser faceva tutto, dal lavapiatti all'assistente di sala, al pizzaiolo, al barman. Era capace a fare tutto, ma praticamente nella sua figura incarnava 4 o 5 professionalità. E questo aveva colpito molto Piero, anche se quando si presenta Nasser da lui non è ancora in grado di fare le pizze, quindi è un po' curioso anche questo, ma Piero capisce chi è intraprendente e da buon Bresciano, da buon Lombardo sa distinguere anche chi è pronto a lavorare e chi è pronto anche a sacrificarsi. E poi arriva finalmente il permesso di soggiorno, perché ricordiamo che fino a quel momento Nasser era un clandestino nel nostro paese, quindi arriva il permesso di soggiorno e anche la possibilità di poter tornare in Egitto a riabbracciare e salutare la sua famiglia. Sì, è bellissimo questo episodio perché porta con sé molte emozioni, porta con sé anche la lettura di un cambiamento. Nasser quando torna nel suo Egitto quasi stenta a riconoscerlo, ma però si sente ancora parte di questo Egitto e poi si sente ancora parte di questa famiglia che, possiamo anche dirlo, non era così sicura di poterlo rivedere. E questo aspetto è sicuramente molto importante, c'è il legame molto bello con la madre che poi tornerà anche nel libro, nell'ultima parte, quando racconta della malattia della madre. Luciano, l'integrazione è solo una questione di testa? Abbiamo letto anche dall'esperienza di Nasser che si pone, si fa questa domanda, la quale dà anche una risposta. Sì, l'integrazione può essere una questione di testa se lo straniero, ma anche l'italiano, si mettono nelle condizioni di conoscere l'altra persona. Alla base di tutto c'è il rispetto, il rispetto reciproco. Nasser ha imparato il rispetto in Italia, il rispetto per le altre culture e lo racconta anche se ha avuto episodi anche spiacevoli, soprattutto nella prima parte lavorativa. L'integrazione nasce dall'incontro, dalla conoscenza delle persone. È questo che fa un po' la differenza. Oggi oggettivamente non possiamo pensare di non conoscere l'altro, lo straniero, quando l'altro, lo straniero, frequenta le scuole dei nostri figli, va all'asilo, alla scuola materna con i nostri figli, gioca a calcio, comunque fa sport con i nostri figli. L'altro è nella nostra società e noi siamo con lui in questa società e quindi non possiamo non conoscerlo. È bellissimo il paragone che fa Nasser, l'invito che fa Nasser agli stranieri quando dice ogni straniero deve pensare di essere ambasciatore all'estero del proprio paese e quindi deve cercare di comportarsi al meglio per rappresentare il suo paese. È un libro questo, se mi permetti, che secondo me andrebbe segnalato anche ai figli, agli immigrati di seconda generazione, perché l'abbiamo visto anche in alcune presentazioni che abbiamo fatto nelle scuole, ci sono alcuni immigrati di seconda generazione che raccontano di non sapere molto dei loro genitori, delle difficoltà che hanno attraversato, di quello che hanno provato per integrarsi in un territorio. Oggi loro sono integrati ma i loro genitori hanno un po' steso un velo su quello che è successo a loro, su quello che hanno provato e questo secondo me è fondamentale per recuperare anche quella parte emotiva che poi uno si accompagna in tutta la sua vita. Ecco Luciano, durante le presentazioni di questo libro che vorrei ricordare si intitola Nasser, da clandestino a cittadino, come il pubblico ha accolto questo libro, questa storia? Per pubblico intendo sia appunto gli italiani ma anche i connazionali di Nasser, quindi gli stranieri che si trovano nel nostro paese. Per quanto riguarda gli italiani devo dire che la prima risposta, la prima reazione alla presentazione del libro è quella frase che si dice spesso quando siamo un po' disorientati, sì questa è una storia ma l'immigrazione è altro. Quando noi sentiamo questo diciamo sì, però ci sono tante storie così da conoscere, da incontrare e da capire, invece molto spesso rischia di essere considerata una storia straordinaria, invece quello che noi cerchiamo di raccontare è che questa è una storia ordinaria che fa straordinaria un po' anche la nostra vita. Agli italiani raccontiamo anche che la capacità di Nasser, di impegnarsi, di fare fatica, è la capacità che avevano i nostri avi, i nostri nonni che sapevano che probabilmente non era tutto dovuto e che probabilmente avevano bisogno anche di dare una grande applicazione per raggiungere dei risultati e questo cerchiamo un po' di raccontarlo anche negli incontri a scuola dove sappiamo bene che quando uno comunque consegue un titolo difficilmente accetta anche un lavoro intermedio perché punta a un lavoro adeguato a quel titolo, invece Nasser ci dice sì, fai un gradino alla volta, dice benissimo che l'uva si mangia un chicco alla volta, con calma, se ti impegni i risultati prima o poi arrivano. Continui a incontrarti con Nasser, continui a raccogliere altri tasselli della sua storia, per esempio qual è il suo sogno più grande, glielo hai chiesto, se è quello di rimanere in Italia o di tornare nel suo paese ad esempio? Sì, io continuo a incontrarmi con Nasser, il suo sogno più grande è quello di tornare in Egitto e di fare qualcosa per il suo paese, questo sogno però nelle lunghe chiacchierate che ci accompagnano nei viaggi per andare a presentare il libro, il suo sogno si scontra però e si scontrerà con la difficoltà dei figli, i figli sono tre, Paolo, Stefano e Maria e questi figli che sono cresciuti e nati in Italia difficilmente vorranno tornare nel loro paese, la difficoltà di Nasser sarà la medesima difficoltà di tanti altri stranieri che hanno cresciuto e una famiglia in Italia e quindi sa benissimo anche lui che sarà difficile riuscire a raggiungere questo sogno. Mi ha colpito un passaggio delle pagine finali, quelle conclusive del libro, i sogni e di questo sono profondamente convinto aiutano ad affrontare la vita con entusiasmo, senza di essi non si può vivere, potremmo dire che proprio questa convinzione ha accompagnato Nasser fin dall'inizio. Vorrei citare anche un altro passaggio a pagina 100, questa è la mia storia, semplice potrebbe dire qualcuno simile a quella di tanti altri ma al tempo stesso ricca di significati e di valori, ogni storia ha la sua importanza, ogni latitudine possiamo essere protagonisti del nostro destino, tocca a noi rendere straordinario l'ordinario. Potremmo dire che Nasser è riuscito a fare proprio questo, quindi potrebbe davvero essere la sua storia da sprone a tanti che lasciano il loro paese per guerre, per fame, per povertà e vengono nel nostro in cerca di una fortuna, in cerca di un mondo migliore. Sì, penso proprio che sia questo il quadro della storia, il quadro di Nasser si inserisce in un fenomeno globale che è quello dell'immigrazione, l'immigrazione che è data da una serie di motivi, dalla ricerca di lavoro ma anche dal desiderio di scappare da situazioni di povertà e anche di guerra. Ricordiamo che nel mondo ad oggi ci sono 65 conflitti attivi e quindi noi non possiamo pensare di chiudersi e di chiudere un recinto, uno Stato e chiudere questo paese alle necessità di altre persone, perché come ricorda spesso anche Monsignor Montenegro è troppo facile, schiacciare un pulsante con il mouse per spostare e transare economicamente grandi quantità di denaro e poi non permettere o non pensare che delle persone per cercare un futuro diverso si possano spostare. E allora ricordo nuovamente ai nostri amici telespettatori il titolo del libro firmato da Luciano Zanardini, Nasser da clandestino a cittadino, una storia vera, edito dalle Paoline e ringrazio Luciano per essere stato con noi, per la sua disponibilità nel presentare il suo libro. Ricordo che possiamo leggerti sul settimanale Diocesano di Brescia, la voce del popolo, ma anche su Vatican Insider e il Corriere, affronti compassione sia tematiche sociali che religiose. Grazie per essere stato con noi, grazie mille, alla prossima storia, mi auguro Luciano, alla prossima pubblicazione. Sì, grazie, speriamo che ci sia subito un'altra storia, sto già lavorando comunque ad alcune storie. Allora vogliamo essere tra i secondi, non tra i primi perché sarebbe troppo amici, tra i secondi ad essere informati del tuo nuovo e prossimo libro. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e un saluto agli ascoltatori. Grazie a te e un saluto.